1 ottobre Poiché, siccome in un solo corpo abbiamo molte membra, e tutte le membra non hanno un medesimo ufficio, così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo, e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. La Chiesa è un insieme di molti operai con forze e intelligenze diverse, che si prodicano per edificare ciò che piace al Signore. Agli occhi di Dio non c'è differenza tra chi è più forte e chi è più debole, tra chi è più intelligente e chi lo è meno. Da parte sua ci sarà sempre una parola d'amore e di conforto per la Chiesa, sua sposa prediletta. Procacciate la carità, non lasciando però di ricercare i doni spirituali. 1 Corinzi 14,1 Apriamo di più il nostro cuore al Signore ed Egli ci guiderà con il Suo Santo Spirito. Prega di più, caro nel Signore, Dio ti benedirà. Canta gloria a Dio, testimoni alla realtà del Signore. Facciamo fruttare i talenti che il Signore ci ha donato. Impegniamoci con tutto il nostro amore per essere una Chiesa gradita al nostro Padre Celeste. Non stanchiamoci di servire il Signore. Il Signore possa benedirci e fortificarci insieme.